siamo nell'ermo di san bruno il santo calabrese e ci siamo diverse volte chiesto cosa rappresenta questa pittura a spiegarci alle vincenzo tallarico da petrona aspetta dai ci siamo allora noi ci troviamo con lo fondo della natura di serra san bruno che cosa rappresenta c'è una croce che è il simbolo di cristo il teschio è il simbolo della morte il libro è la priera antica il nuovo testamento e la regola e poi c'è il cilicio che è il segno della penitenza questo è racchiuso tutto l'ordine dei certosimi ed è sempre vincenzo tallarico che vuole dare testimonianza di un suo dire vero dimmi allora mentre giovanni paolo secondo è venuto qui in visita canonica è una visita pubblica benedetto invece è venuto in privato con la scusa di andare alla mezzia terme poi si è recato qui dentro dove ha celebrato dove ha pregato con i monaci però si è consultato con loro della decisione che aveva già pronta per dare le dimissioni da base grazie della tua testimonianza vincenzo Grazie a tutti.